Lo sportello del cittadino, anzi lo sportello della consigliera di parità della provincia di Taranto, l'avvocato Gina Lupo. Dopo aver trattato varie tematiche, ora siamo a una situazione, a una problematica davvero seria, quella appunto della dipendenza dal gioco, la ludopatia. Abbiamo evidenziato che si tratta di un male subdolo che quando emerge poi, come dire, già il dramma si è consumato. Quali rimedi approntare? Come uscirne o quantomeno fronteggiare questa situazione? Allora diciamo subito che in Italia un numero elevatissimo di sale gioco forse è superiore alla media in America, quindi noi addirittura abbiamo in proporzione al numero di abitanti più sale gioco rispetto agli Stati Uniti d'America e questo è un sintomo che non può essere sottovalutato. Vuol dire che è un problema dilagante. Ora la dipendenza dal gioco, come tu hai definito Luigi la ludopatia, è qualcosa di subdolo perché a differenza delle altre dipendenze, penso a una dipendenza dalle droghe o dalle sostanze stupefacenti in genere, penso a una dipendenza dall'alcol che viene percepita dal familiare come problema, la dipendenza del gioco rimane invece occultata. Spesso le persone che sono affette non lo dicono, spesso inventano di andare al lavoro quando invece passano la loro giornata al chiuso in una sala gioco alla ricerca disperata di rifarsi dei soldi perduti. Impiegano i loro capitali, distruggono i capitali accumulati per una famiglia, ipotecano case, ci sono stati imprenditori che si sono visti disgregare tutto quello che è stato creato negli anni. Il familiare Luigi non lo percepisce, non capisce il problema, se ne accorge quando è tardi e difficilmente colui che è affetto da una dipendenza del gioco è disposto a mettersi in gioco, cioè comprende di avere, pensa di poter smettere, guarda non ti preoccupare, domani non ci vado, in realtà il problema non va sottovalutato come tutte le dipendenze. Occorre fare un percorso terapeutico, affidarsi a specialisti seri, il CERT di Taranto è un buon centro che comprende con i validi operatori che ci sono queste problematiche e occorre seguire un percorso di terapia di disintossicazione da questa dipendenza alla pari delle altre dipendenze. Molte donne, ad esempio Luigi, sono affette dalla dipendenza dello shopping, da shopping, beh guarda ci sono molte donne che hanno perso capitali e hanno impegnato anche i loro beni e quelli della loro famiglia perché sono dipendenti per esempio dallo shopping. È una patologia che va curata attraverso un percorso terapeutico serio, affidarsi soprattutto a persone esperte.